9 luglio 2015, siamo qui in Largo Agosta, finalmente, quasi fosse un miracolo, sono iniziati i lavori sulla piazza. Ed è stato uscito anche un buon periodo, in modo che potranno lavorare, c'è un po' meno affluenza, possono cominciare le ferie, i bambini, ci sono tanti bambini in giro, però finalmente questo lavoro è partito e sicuramente troveranno, non so, i tempi di lavorazione e cosa faranno, troveranno una piazza più accogliente e sicuramente più funzionale. Gli stanno passando, non so se è un isolante, hanno già fatto il lavoro di un pozzetto esterno per la ricezione delle acque in sostituzione di quello in marmo e vediamo, comunque, finalmente Veglianti è riuscito a rimediare i soldini che servono per questo lavoro e Largo Agosta, dopo anni, avrà finalmente un punto funzionale.